Ciao amici di VGN e benvenuti a questo primo unboxing dedicato alle novità hardware di Logitech G, vincitore assoluto del Best Hardware durante le 3 2018 di un appunto dei VGN Award che abbiamo assegnato. Oggi vi parliamo della tastiera G513 Carbon della divisione gaming di Logitech, appunto Logitech G. Andiamo dunque ad aprire insieme la confezione per scoprire cosa contiene al suo interno. Questa è la tastiera così come si presenta prendo la confezione principale, noi abbiamo provato durante le 3 2018 e premiato la sua versione precedente ma abbiamo avuto modo ovviamente anche di vedere all'opera questo top di gamma che è ovviamente caratterizzato dalla presenza di tasti meccanici, da tempi di risposta ultralapidi da un millisecondo e da una retroilluminazione RGB. Allora io intanto vedo di scartarla un po' per presentarvela. Vi mostro la tastiera liberata ovviamente dal cartone della scatola, quindi vi mostro prima di tutto le parti meccaniche, la dotazione vera e propria che troverete all'interno della confezione. Quindi la nostra tastiera, un pad ovviamente per i polsi, la caratteristica principale sarà di memorizzare ovviamente i movimenti fisici delle vostre mani e dei vostri polsi rendendo ovviamente l'esperienza del gaming il più rilassante possibile, il meno stressante possibile. E poi abbiamo i nostri copritasti perché ovviamente avrete bisogno durante sessioni molto lunghe di gaming di coprire quelli che sono nei vostri tasti per evitarne l'usura. E noi abbiamo visto che durante la dimostrazione che ci hanno fatto i tasti sono estraibili anche manualmente, però per comodità e per sicurezza è stato inserito anche un estrattore che vi aiuterà ovviamente nello sfilarli al meglio ovviamente dalla vostra tastiera. Dettaglio che salta subito all'occhio di questa tastiera è sicuramente un elemento di design ma anche di resistenza vero e proprio della tastiera che è questo bellissimo telaio in lega di magnesio e alluminio che è stata progettata proprio per usi molto prolungati e anche un po' rudi della stessa tastiera. Ha una leggera satinatura fatta apposta per evitare qualsiasi tipo di graffio o urto in caso voi decidiate di lanciarla dalla finestra. Una delle particolarità di questo modello è la possibilità di scegliere tra tre differenti switch meccanici, ciascuno adatto a un particolare stile di gioco. Come potete vedere la versione inviataci da Logitech Italia che ringraziamo per averci inviato il prodotto dispone di meccanica GX Blue Clicky ovvero il design che offre sia un feedback tattile che uditivo ma ci sono anche altre due versioni con meccaniche Romer G Tactile e Romer G Linear. Tutte e tre le meccaniche dispongono ovviamente di retroilluminazione RGB e potrete scegliere ovviamente tra 16,8 milioni di colori diversi con supporto alla tecnologia Light Sync che come avete già visto nei prodotti Razer Chroma consente di illuminare i tasti in base a ciò che succede nel gioco per un'esperienza ovviamente molto più coinvolgente. Sul retro della nostra tastiera oltre al cavo USB di collegamento al computer troviamo anche una presa USB passthrough ad alta velocità che consente sia la ricarica di dispositivi che il collegamento ovviamente di un mouse a bassa latenza. Novità che va a corredo della Logitech G513 è sicuramente la possibilità di connettersi a un cloud dove potrete scaricare diversi effetti di retroilluminazione di cui parleremo meglio durante la nostra recensione completa che troverete ovviamente sulle pagine di VGN. La tastiera è già disponibile a partire da questo mese al prezzo di 184,99 euro per l'Italia. E con questo unboxing vi salutiamo, restate sintonizzati ovviamente su tutti i nostri canali e continuate a seguirci. Ci vediamo alla prossima, ciao!